Musica Più confortevoli, più sicuri, più accessibili, più rispettosi dell'ambiente sono le caratteristiche principali dei 15 nuovi autobus Euro 6 inaugurati a Bari da Ferrovie e Apolo Lucane. I nuovi mezzi Iveco Euro 6, e cioè ridotte emissioni di sostanze inquinanti come da normativa europea, completano il rinnovo del parco mezzi pugliese di Fall, che oggi costa di 53 autobus, tutti Euro 5 ed Euro 6. L'investimento complessivo per l'acquisto dei 15 nuovi autobus è stato di 3,4 milioni di euro, di cui 2,9 da parte della regione Puglia, a valere su risorse FSC 2014-2020 e 500 mila euro di cofinanziamento da parte di Ferrovie e Apolo Lucane. Un importante traguardo che segna il rinnovo totale della flotta autobus presente in Puglia. Crediamo che con questo rinnovo, così come abbiamo fatto sino all'anno scorso, nel rinnovo totale della flotta del materiale rotabile, quindi dei treni, raggiungiamo standard di offerta qualitativi in temi di efficienza importante, oltre chiaramente aumentiamo gli standard non solo di comfort ma anche di sicurezza. È un investimento importante per 3,5 milioni di euro, di cui il 15%, quindi 500 mila euro messi a disposizione da FAL. Questo appunto perché continuiamo a credere nel servizio di trasporto pubblico locale e siamo convinti che, completata questa fase, adesso ci dedicheremo esclusivamente ai tanti cantieri che abbiamo in corso e a quelli che apriremo entro la fine dell'anno con i fondi del PNR. Abbiamo rinnovato in Regione Puglia il parco mezzi al 100%, siamo una delle flotte più giovani d'Italia, forse d'Europa, e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Ma siamo soddisfatti ma non appagati, perché guardiamo al futuro, come sapete abbiamo grandi progetti sia per quanto riguarda le infrastrutture e sia per quanto riguarda i trasporti. Il nostro obiettivo sarà quello in futuro di cercare, proprio a vantaggio dei nostri utenti, di cercare di fare rete tra le varie aziende per garantire una intermodalità nei trasporti, ferroviaria e su gomma, che possa consentire il migliore e più efficiente servizio di trasporto pubblico locale nei territori che serviamo, quindi Regione Puglia ma anche Regione Basilicata. Un passo in più che la Regione Puglia ha compiuto in termini di mobilità. Oggi presenteremo i 15 autobus di FAL, sono ovviamente autobus tecnologicamente avanzati, hanno delle caratteristiche importanti per rendere un trasporto più sicuro ma sicuramente più confortevole e anche dal punto di vista della sostenibilità credo che sia fatto sicuramente un passo in avanti.